inizia una nuova stagione di taste the architect la serie che parla di architettura ma lo fa direttamente dalla cucina quella dello showroom di signature kitchen suite a milano con l'aiuto del nostro chef tradurremo in prelibate creazioni gastronomiche quei valori o meglio quegli ingredienti che danno sapore alla migliore progettualità internazionale sei ingredienti per altrettanti protagonisti del settore ognuno con il suo gusto distintivo occorre quindi scoprirli uno ad uno osservare degustare e assaporare questo è taste the architect grazie a tutti